Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati qui nella nostra postazione nel touchscreen Ci sono già i giornali di oggi, quotidiani che troverete in edicola Quindi siamo in ambito di rassegna stampa Occhio ai giornali, sono le 7.30 del mattino, come sempre siamo in diretta qui per iniziare insieme a voi la giornata Naturalmente guardiamo prima l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo prima di iniziare a sfogliare i giornali Vediamo, oggi è sabato 1 ottobre, quindi primo giorno del mese, Santa Teresa di Gesù Bambino E il sole è sorto alle 7.05 e tramonterà alle 18.50 Giornate sempre più corte, immancabilmente, inesorabilmente Direi io che queste sono le previsioni, partiamo da quelle di sabato, quindi di oggi Il cielo, vedete, è sereno, poco nuvoloso nella mattinata Però le coperture aumenteranno nel corso del pomeriggio E non si escludono anche le precipitazioni, però più che altro nelle zone interne della regione A partire dalla serata, le temperature sono stazionari o in lieve diminuzione E le precipitazioni, le piogge si intensificheranno nella notte, nelle prime ore della giornata di domani E come vedete la simbologia compare anche sulla costa Quindi il cielo per domenica sarà nuvoloso In mattinata, però nel pomeriggio e poi nelle prime ore della giornata Appunto partiranno le schiarite che arriveranno nelle ore centrali della giornata Ad avere un cielo sicuramente migliore di quello che vediamo nella cartina Rovesci appunto sparsi nella prima parte della giornata E anche fenomeni a ridosso dei rilievi durante le ore pomeridiane Quindi insomma se andate in collina o in montagna a cerca di funghi Sappiate che forse vi beccate la pioggia Le temperature sono in aumento nei valori minimi Previsioni per lunedì, vediamo l'inizio della settimana Come si preannuncia, vedete un po' all'insegna anche qui della variabilità Cielo parzialmente nuvoloso e possibilità di deboli precipitazioni Questo era, chiudiamo, archiviamo la parentesi meteorologica Guardiamo i giornali, partiamo dal Corriere Adriatico E la pagina di Fano che mette in evidenza C'è stata una conferenza stampa dei carabinieri Per l'arresto di quel rapinatore che lupara alla mano Rappinò la tabaccheria azzurra a Lucrezia di Cartoceto Era fuggito in Calabria E insomma è stato arrestato il rapinatore appunto Dell'assalto a Ponte Murello Vedete nel riquadro Impugnata dal maresciallo dei carabinieri L'arma usata in quel frangente Che puntò contro la faccia della titolare della tabaccheria Una telecamera lo ha incostrato La telecamera della tabaccheria Che guardava proprio sull'entrata della tabaccheria È un frammento di auto Ha messo sulle tracce di questa persona I carabinieri Però tutte le altre telecamere Non funzionavano quelle di Saltara Soltanto questa è riuscita a inquadrare Questo pezzettino di auto Che ha incastrato il rapinatore mascherato Che era completamente travisato Insomma non aveva un lembo di pelle libero E soprattutto non aveva detto neanche una parola Appunto per non tradire il suo accento calabrese Vedete l'arma, la classica lupara Era fuggito subito dopo Perché appunto messo anche sul chivalada Alcune indiscrezioni apparse sulla stampa L'uomo si era spaventato Ed era andato a nascondersi Nel suo feudo a Terranova E quindi insomma In provincia di Reggio Calabria A Taurianova In provincia di Reggio Calabria Ma i carabinieri di Saltara Sono arrivati fin lì E quindi insomma È riuscito a Nascondersi per pochissimo tempo Ma poi è stato catturato Nuova illuminazione Andiamo nel centro di Fano È partita la operazione Insomma relamping Di tutto il centro storico Potrete ammirare la nuova configurazione Dei lampioni in via Garibaldi Che arriverà a fine Insomma a fine lavori A compimento insomma di questa grande opera Che stanno facendo Vedete qui anche i selci In tutta la zona centrale Anche della via Non solo nei marciapiedi Nelle zone laterali Grazie ad altri 40.000 euro 45.000 euro Trovati dal comune Per appunto Pavimentare con i selci Tutta la strada Insomma come altre strade Del centro Quindi sono Un impatto visivo Molto bello E poi ci saranno I nuovi lampioni Una nuova illuminazione Per tutto il centro Che darà un aspetto Decisamente diverso E più accogliente Alla nostra città E soprattutto Dal centro Ma sono previste Anche altre zone Di Fano Che verranno Rilluminate Con questa nuova Metodologia A led Che oltre a risparmiare Tanti soldi Crea anche una luce Più calda E più avvolgente I guai dell'aeroporto Non sono soltanto Nel consiglio D'amministrazione Ma risiedono anche Nella pista La pista Malconcia Interbattuta Insomma Una scarsa Manutenzione Anche con Insomma Diversi sassi E l'enac Minaccia di Inibire Il volo Idonità ridotta Per 200 metri E solo 40 giorni Per ripristinare Le condizioni Dello scalo Quindi insomma I guai dell'aeroporto Non finiscono ancora Valcesano Si ricorda Il sacrificio Dell'immigrazione In onore Delle vittime Di Marcinelle Oggi Targa ricordo Al bel sito Solfare E commemorazione A Cabernardi Per questa tragedia Che parla Dell'immigrazione Italiana Insomma La grande immigrazione In Belgio Nelle miniere Di carbone Andiamo a Senigallia Al party A base Al parco Parti a base Di sesso e alcol Rischi per i bambini Mamme sono in rivolta La petizione Per chiedere pulizia E sicurezza I controlli Dei vigili urbani E i blitz Dei carabinieri Vedete Il sindaco Mangialardi Che dice Aree verdi Vandalizzate Da chi ha poco cuore E l'interesse Comune Scarso In senso civico Anche A Fano Lo abbiamo potuto Vedere Anche di recente Proprio Nel parco Di Bellocchi Rimaniamo Sul corriere Adriatico Andiamo Nelle pagine Che riguardano Pesaro Pesaro in primo piano Si parla di ospedale La zona di muraglia Esondabile E sismica Ceriscioli E Ricci Spieghino Questa scelta Il capogruppo Pro Chiaruccia Con 10.000 iscritte Scrive una lettera aperta Perché non si opta Per il sito migliore L'iniziativa Prende lo spunto Dall'analisi Del geologo Longhini Ignorati I vantaggi Insomma I vari I vari vantaggi Che la zona di Chiaruccia Avrebbe Questo è il rendering Dell'area di Chiaruccia Per l'ospedale Unico Che insomma Un'area Che misura 31 ettari Mentre quella Di muraglia Soltanto 17 E quindi insomma Domande e quesiti Ai quali Insomma I politici E gli amministratori Dovranno rispondere Rimaniamo sempre Nella pagina Che riguarda Pesaro Vi faccio vedere Questa foto Sono delle installazioni Artistiche Sono delle Biciclette Adesso le ingrandiamo Ve le faccio vedere Quindi Altre installazioni Destano dopo Insomma Le panchine Insomma Nella rinnovata piazza Alla palla di pomodoro Anche queste Fanno scattare L'ilarità E trasformano E dividono La città In due In due fazioni Scherze polemiche Sull'originale Scultura Ma l'assessore Delle Noci Dice Ce l'aspettavamo E quindi Questa è Andiamo nel Resto del Carlino Vediamo le pagine Partiamo da Quella di Di Pesaro Arriva Renzi E il teatro È già Sold out È già blindato Naturalmente Nel pomeriggio Annunciata La contestazione Però Dei centri sociali E si parla Sicuramente Del referendum Fotonetizia Al centro Si parla Di voucher E poi Ginnastica In festa Forse va A Rimini Con 20.000 Presenze In meno E Eccola qua Insomma L'articolo Che ha il lancio Nella fotonotizia Nella pagina di apertura Dell'inserto Locale Forza lavoro Passa per la tabaccheria E la Insomma Per i voucher E la CGL Denuncia Questa esplosione Di metodica Di pagamento Forse Che maschera Altri problemi Nuovo record Un milione di ore I dati Di luglio Parlano di 941.000 Ore Acquistate Ad agosto Superato Addirittura Il milione Il risultato Delle politiche Del governo Con il Job Act Questo è il risultato Il risvolto L'altra pagina L'altra faccia Della medaglia Non solo servizi Lavoro precario E ormai una diffusione In ogni settore Anche nel Manifatturiero E poi qui di fianco Vedete a parte Simona Ricci Il segretario della CGL Tutto snocciolato I numeri Di questo Articolo Violenza Violenza Sulle donne Tira un pezzo Di pane E' stato condannato Marito manesco Colpevole di percosse La ex Lamentava Mal di testa Però è stato Assolto Dal reato Di maltrattamenti De resistenza La moglie Malgrado L'uomo Fosse Sovente Violento Era rimasta Nella stessa Casa E questo Forse è uno Dei grandi problemi Denunciare Denunciare E alle volte Insomma ci vuole Un atto di coraggio Di forza Anche interiore Non è Non è facile Non è facile Il resto Del Carlino La pagina di Fano Anche qui Insomma L'articolo Che riguarda L'arresto Del rapinatore Nell'ampia conferenza Stampa Che ha illustrato La grande Complessa Operazione Di polizia Dei carabinieri Che lo hanno Acciuffato Ecco qui Questa è la foto Del rapinatore Foto che non si è Naturalmente Fatto vedere Lui durante La rapina E poi Nella conferenza Stampa Insomma Il capitano Falcucci Ha anche sottolineato Alcuni aspetti Di sicurezza Passiva Ci vorrebbero Più telecamere Perché quelle Che c'erano A Saltara E a Lucrezia Non erano funzionanti Di sé Non ne funzionava Neanche una E invece Sarebbe Più utile Avere più telecamere Anche a Fano C'è La possibilità Di avere più Telecamere Grazie a un'iniziativa Che si chiama Adotta una telecamera Tutti i raguagli Li potete trovare Nella pagina del comune Il comandante Fuligno Mostra appunto La centrale operativa Che dice Stiamo mettendo a punto Il progetto Adotta una telecamera Che consentirà Ai privati Di installare A un prezzo Agevolato Telecamere Collegate Direttamente Con loro E che monitorizzano La zona Antistante All'attività commerciale All'azienda Alla casa Insomma Però consentono Anche alle forze Dell'ordine In caso di Eventi Criminosi Di valutare Qual è Il passaggio Il traffico Degli automezzi Perché insomma I varchi Delle città L'entrata E l'uscita Sono il mezzo Di accesso Di banditi Che spesso Diceva il comandante Falcucci Vengono da fuori Non sono locali E per cui Devono entrare Necessariamente Nella città E il controllo Delle targhe E gli orari In cui questi Sono transitati Possono mettere In collegamento Attraverso Un incrocio Di dati Queste persone Con l'evento Criminoso Del quale Si sta Indagando Questo sarebbe Auspicabile Naturalmente Questo è L'ideale Chiaruccia Nell'articolo Di Fano Del resto Del Carlino L'ultimo Che vi faccio Vedere Chiaruccia Fa tremare Che è naturalmente Il sito di Chiaruccia Per l'ospedale Fa tremare Gli assessori PD E in vista Della prossima Riunione D'area vasta Seri fa pressing Sui sindaci Delle vallate Vicino al sindaco I sospesi Se non collaborano Alla sua Campagna I primi cittadini Non parlano Ugoccioni Da saltare Glissa Dobbiamo Vederci E quindi Insomma Amoraglia Troppi problemi Il comitato Pro Chiaruccia Bene Questa era l'ultima pagina Che vi leggevo Di questa rassegna stampa C'è un piccolo stravolgimento Del nostro palinsesto Negli orari Per la giornata di oggi Perché a seguire Appunto Questa rassegna stampa Non ci saranno le repliche Ma ci sarà La Santa Messa Dalla Georgia Il Papa è in Georgia Quindi ci sarà La Santa Messa Appunto adesso Alle 7.45 Tutto Quindi il nostro palinsesto Della giornata Salta Appunto per questo Quindi la Messa Non ci sarà Alle 8.30 Ma ci sarà Adesso Fra pochissimi minuti Bene Grazie per essere stati In nostra compagnia Per aver aperto La vostra giornata Insieme a Occhio ai giornali Che torna Lunedì mattina Alle 7.30 Puntualmente Grazie Buon fine settimana A tutti voi Grazie 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 Grazie